Sono venuto a portare la solidarietà del Movimento 5 Stelle sul super bonus rischio di 120.000 lavoratrici e lavoratori che vanno a casa e di tantissime aziende che rischiano di chiudere. Sono venuto a portare la solidarietà anche per cogliere gli appalti, c'è delle criticità serie perché avvisi e bandi non sono previsti sino a 5 milioni, c'è scarsa trasparenza. Sono venuto a parlare dei conflitti di interesse che ormai si addensano grandi come una montagna al Ministero del Lavoro. Sono venuto a parlare, a portare solidarietà anche per quanto riguarda la necessità di attuare il PNRR, di superare questi ritardi, recuperarli e di non sprecare un euro. Il PNRR non è di Giorgia Meloni, ma non è neppure di Conte, non è di Draghi, è di tutta l'Italia. Credo che il PD su questa battaglia debba esserci, credo che il PD potrà essere d'accordo nel dare un contributo. Allora aspettiamo la loro risposta.